ok bene cominciamo allora la prima la prima cosa che devo dire la prima cosa che vi devo dire è che sono arrivati pochissimi contributi attenzione se arrivano pochi contributi è un pochino difficile è un po difficile mettere in piedi una puntata quindi mi auguro per il futuro se ci sarà un futuro che è se questa commissione vi piace che arrivino più commenti soprattutto commenti commenti vocali ho dovuto fare una cernita tra quelli arrivati e non sono stato lì a sutilizzare proprio perché erano talmente pochi che ho dovuto prenderli tutti ok però quelli che sono arrivati quelli che sono arrivati hanno colto proprio nel segno quello che vuole essere voci del coprifuoco voci del coprifuoco non parlerà solo di covid ma inevitabile visto che nel titolo c'è la parola coprifuoco che si parli anche di questo periodo condizionato dalla presenza della pandemia del covid una cosa che mi è piaciuta è che la parola che io volevo della quale io volevo parlarvi cioè libertà è arrivata è arrivata attraverso un contributo che ha inviato tachipirina 2020 così si è firmato o firmata suppongo firmata perché tachipirina mi dà più l'idea di di un femminile ha mandato un contributo audio non lo posso mandare tutto perché probabilmente anzi sicuramente coperto da diritto d'autore però ascoltiamolo che secondo me è una cosa molto 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 bella dalla sua cella lui vedeva solo mare ed una casa bianca in mezzo al blu una donna si affacciava Maria è il nome che le dava lui alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava quella di casa mia e lui pensava quella di casa mia tu sarai la mia compagnia Maria una speranza e una folia e sognò la libertà e sognò di andare via 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 e un anello di te già sulla mano di Maria avrete sentito la canzone era dalla casa in riva al mare anzi la casa in riva al mare è una canzone l'avrete riconosciuto del mitico Lucio Dalla perché questa canzone ho capito cosa voleva dirci Tachipirina 2020 in questa canzone si parla di libertà ma di libertà negata perché il protagonista del testo è in pratica un carcerato che dalla sua cella vede dalla finestra della sua cella una donna e si immagina una volta uscito dalla prigione di poter abbracciare questa donna di poter stare con lei mi fa venire in mente quello che faranno alcuni anziani osservando l'esterno dalla loro casa di riposo oppure i nonni che aspetteranno inutilmente il giorno di Natale o il giorno di Capodanno gli auguri dei propri nipoti che abitano in un altro comune ecco questo era per non per non fare polemica però non sono arrivati solo dei messaggi solo dei messaggi audio intanto ripeto ringraziamo Tachipirina perché ci ha dato questo spunto per parlare di libertà sono arrivati anche dei messaggi testuali questi sono un pochino più dentro le storture di quello che stiamo vivendo di quello che stiamo vivendo a causa del covid mi scrive Francesco da Cagliari e mi scrive questo volevo condividere la mia esperienza sulla disorganizzazione totale delle asl circa un mese e mezzo fa mi è arrivata una notifica via email destinate erroneamente ad un omonimo residente in un paese del medio campidano attenzione era un provvedimento di quarantena della asl di san luri lui e la moglie dovevano stare in casa in isolamento perché erano stati in contatto diretto con un positivo al covid ho risposto immediatamente all'email comunicando l'errore ossia che il provvedimento è stato inviato all'email sbagliata me ne sono più o meno dimenticato fino a quando oltre un mese dopo è arrivata un'ulteriore comunicazione via email in cui comunicavano che in seguito al tampone con risultato negativo effettuato qualche giorno prima il signor Francesco cioè il mio omonimo e consorte erano liberi di uscire nuovamente di casa ovviamente ho comunicato di nuovo prontamente che avevano mandato la comunicazione all'indirizzo email sbagliato ora ho un forte senso di colpa non vorrei che questi due malcapitati abbiano involontariamente unto mezzo paese oppure che stiano ancora aspettando di uscire di casa avete capito bene quello che ci dice Francesco da Cagliari la asl di san luri ha mandato un email a un indirizzo sbagliato ad un omonimo di Francesco e quindi probabilmente questa coppia di persone positive non ha mai saputo di essere stato positivo e è andato in giro a contagiare gli altri perché la mail non è arrivata correttamente a loro ma è arrivata a Francesco da Cagliari e probabilmente ammettendo anche che gli sia supponiamo gli sia arrivata la prima di mail ma anche la seconda è arrivata a Francesco a non il Francesco giusto e quindi probabilmente questi sono ancora chiusi in casa che aspettano questa mail che non arriverà mai questo è un esempio di quello che può accadere se per sfortuna vi ritrovate a dover avere a che fare con tamponi, asl e cose di questo tipo sì, è una cosa kafkiana però succede ora vi mando una serie di vocali che sono arrivati ascoltiamoli, ascoltiamoli insieme magari ci danno qualche spunto di riflessione ascoltiamoli ciao sono Fausto volevo dire, magari sta ascoltando questa trasmissione vorrei dire a quello lì che mi ha detto fra dieci minuti ti porto l'albero che ancora non si è fatto vedere io ho qua la macchina smontata che mi manca quel pezzo e così non la posso ottenere quindi oh, fai in fretta e portami questo albero ciao ciao sono Jennifer vorrei dedicare la canzone strani amori di Laura Pausini al mio amore Zlatan perché il nostro amore è proprio strano tanti baci al mio amore Zlatan e a tutti i suoi compagni di cella ciao sono Alfredo chiamo da casa mia volevo dire che io nella prossima settimana devo andare fuori all'estero devo partire in Ucraina e ho bisogno di fare un tampone per poterlo presentare all'aeroporto ma non è che come mi cificano quella cosa mi stampano il cervello e vorrei sapere da voi che rischi si corrono a farsi infilare un cotton fiocco lungo dentro il naso grazie ciao sono Onoranzio Portogallo 78 Grecia 89 Polonia 92 Ungheria 116 Romania 127 Ucraina 145 Regno Unito 189 Turchia 203 Russia 456 Italia 528 L'Italia con 528 vittime nelle ultime 24 ore per Covid e la nazione d'Europa in cima a questa infausta classifica sarà tutta colpa dell'età media della popolazione perché negli altri paesi sono tutti i giovincelli sarà colpa del fatto che noi li contiamo bene i morti invece gli altri tutti i paesi sviluppati all'avanguardia dell'Occidente in questa classifica no? Sarà che in un paese dove da giorni il numero dei morti giornaliero non scende sotto 500 forse il ministro della salute e il governo intero qualcosina dovrà dire? Di qualcosina dovrà rendere conto? Ditemi voi Bene quest'ultimo messaggio erano interessanti tutti quest'ultimo messaggio ci ha letto la classifica dei morti giornalieri tra i primi dieci paesi d'Europa in ordine di morti giornalieri per il dato di oggi Devo obiettare a Onoranzio che in realtà il calcolo giusto sarebbe il numero di morti su milioni di abitanti purtroppo però in questa classifica non è che l'Italia sia messa molto bene ugualmente non è al primo posto al primo posto c'è il Belgio però effettivamente questo numero di morti che sale continuamente andrebbe spiegato la risposta principe quando viene chiesto a qualche esponente del governo il perché di tutti questi morti la risposta principe è sempre è perché noi abbiamo molte persone anziane ora io non ho in mano i dati precisi ma non mi pare che ad esempio in Germania ci siano pochissimi anziani o perlomeno le proporzioni le proporzioni non mi sembrano non mi sembrano queste bene ho chiesto aiuto ho chiesto aiuto a un amico a Damiano alcuni di voi sicuramente lo conoscono gli ho chiesto di farmi un editoriale e lui ha tirato fuori un interessante spunto di riflessione e di analisi adesso ve lo faccio sentire aspettate un attimo anche lui me l'ha mandato come messaggio vocale perché ormai è questo il modo di comunicare che ci siamo dati un secondo e ve lo faccio sentire nella sua celeberrima Don Raffae Fabrizio De Andrè scriveva e cantava prima pagina 20 notizie 21 ingiustizie è lo Stato che fa si costerna si indigna si impegna poi getta la spugna con gran dignità quello che è successo in questi mesi che è accaduto in seguito alla pandemia da coronavirus covid-19 ci fa vedere uno specchio incredibile di questo paese l'Italia è un paese particolare che scopre il fenomeno mafioso dopo che la mafia attacca i servitori dello Stato e dice non succederà mai più ci impegneremo a vincere e a risolvere questo problema questo è il paese che scopre di avere un grosso problema idrogeologico quando arrivano le alluvioni i morti e le distruzioni di interi paesi è un paese che scopre di avere dei problemi enormi nella costruzione di edifici antisismici e non bastano il Belice non basta il Friuli non basta l'Irpinia e andiamo avanti sempre dicendo non succederà mai più questo è il paese che ha dovuto attendere il crollo del Ponte Morandi per rendersi conto che c'era un problema nelle infrastrutture relative ai trasporti nazionali infine questo è un paese che ha capito dalla pandemia da Covid-19 che il sistema sanitario era stato distrutto tagliato disintegrato nel corso degli anni e ha scoperto incredibilmente che i posti di terapia intensiva ma in generale appunto l'intero sistema sanitario non avrebbe potuto reggere una pandemia mondiale ora voi direte ma quante probabilità c'erano che una pandemia potesse scatenarsi in realtà uno stato dovrebbe sempre chiedersi in caso di un'emergenza straordinaria sono in grado di far sì che le mie strutture possano reggere queste emergenze vedete noi siamo un paese che agisce da sempre sull'onda dell'emozione noi siamo il paese che correva alle armi salvo poi ai primi bombardamenti ribellarsi e poi arrivare a una guerra civile noi siamo il paese che si emoziona di fronte al terrorismo di fronte alle calamità naturali che mobilita l'intera popolazione salvo poi rincominciare da capo con la stessa problematica qualche anno dopo ci chiediamo quindi secondo voi ma questa epidemia da covid ci insegnerà qualcosa? perché se noi andiamo a vedere gli avvenimenti precedenti che ho già citato terremoti inondazioni terrorismo fenomeno mafioso guerre io direi che non ci hanno insegnato granché ci troviamo spesso infatti a dover parlare delle stesse cose e renderci conto che abbiamo fatto trascorrere i decenni senza nemmeno tentare una soluzione per risolverle dunque capiranno i nostri governanti sia nazionali che locali che la sanità non è un gioco di poltrone che i tagli orizzontali che hanno privato interi territori dei propri presidi sanitari forse avranno bisogno di una verifica e di una progettazione intelligente nei prossimi anni credo e sarete d'accordo con me che se questo paese l'Italia avesse una sua bravura nella progettazione delle soluzioni prima sottolineo prima di dover affrontare le problematiche per cui sono state create quelle soluzioni forse oggi avremmo pianto qualche morto in meno ciao bene grazie a Damiano per averci dato questo spaccato dei vizi e delle virtù di noi italiani è vero non impariamo dei nostri errori ma soprattutto non imparano dei nostri errori coloro che ci governano credo che una delle poche cose che ci ha insegnato il covid che ci sta insegnando forse è quella di come lavarsi bene le mani poco 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 altro vabbè io sono pessimista da questo punto di vista ma non è colpa nostra perché è bella anche questa storia quando le cose quando le cose vanno male è colpa degli italiani dei comportamenti degli italiani quando invece le cose vanno bene è merito del governo vabbè ma questa questa è polemica forse spicciola sentiamo altri altri contributi ve l'ho detto ho fatto una cernita non ho fatto una cernita perché ne sono arrivati pochi quindi mando in onda tutto quello che mi è arrivato anche cose discutibili ma pazienza ciao sono Fausto volevo dire magari sta ascoltando questa trasmissione vorrei dire a quello lì che mi ha detto di nuovo Fausto com'è possibile è venuto fuori di nuovo Fausto strano avevo detto a Fausto che bastava uno è successo qualcosa vediamo un po' che sta succedendo avevo messo da parte avevo messo da parte i contributi adesso non so se 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 riesco a recuperarli vediamo un po' scusate un attimo ma a quanto pare è successo qualcosa mamma mia la tecnologia vediamo ciao sono Fausto niente niente sempre Fausto sempre Fausto vediamo se riesco a vederli da qui sempre Fausto ecco qua forse 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 ci sono vediamo un po' vediamo un po' mamma mia non ci voleva questo scusate ma perché non misurare la febbre quando si entra a scuola con gli scanner cioè uno va al ristorante misuriamo la febbre vai dal parrucchiere ti misurano la febbre perché a scuola non ci poteva essere lo scanner per misurare la febbre ai bambini andiamo a farci tagliare i capelli misurano la febbre all'ingresso il termoscanner peccato che la scuola è un'organizzazione molto molto complessa però il termoscanner ce l'abbiamo persino qua entriamo in Rai passiamo non ce ne accorgiamo nemmeno insomma sì ma non siete 3.000 che entrano tutte le mattine Rai a 14.000 dipendenti ministro today I'm honored to announce the following pledges on behalf of the Italian people we will contribute 140 million euros to all the three organizations we will contribute 10 million euros to CEPI to asserire research to find a vaccine we also contribute 10 million euros to the World Health Organization to continue supporting the most vulnerable countries in the preparedness and the response to COVID-19 ciao sono signora Cenza chiamo dalla casa di riposo nonni felici volevo dire che c'è un sacco di gente che si lamenta che non può andare a sciare che non può vedere il parente a tavola a Natale che nella notte di Natale cosa devo dire io che sono chiusa qua e non vedo altro che televisore acceso con Barbara D'Urso e suore con i baffi ciao è in arrivo sul binario 19 il treno regionale Crisanti si prega di rimanere all'interno della zona gialla scusate sono Silvana capisco la versione nei confronti di questo governo che comunque si è trovato ad affrontare una pandemia senza precedenti ma vogliamo parlare dell'opposizione se ci fosse un'opposizione seria e preparata e non sopra le righe come quella che abbiamo noi probabilmente anche il governo sarebbe stato costretto ad una maggiore serietà e precisione invece l'opposizione ogni qual volta c'è una crisi tira in ballo i migranti altro non sanno fare tirare in ballo i migranti bene quest'ultimo messaggio ce l'aveva anche con con l'opposizione devo dire che anche a me piace poco questo tirare in ballo i migranti così anche se un fondo di verità ovviamente c'è ovviamente c'è perché ci sono delle discussioni avviate in in Parlamento che potevano passare in secondo piano visto il momento che stiamo che stiamo vivendo quindi avete visto io do la parola a tutti anche a chi critica anche a chi critica l'opposizione e non solo il governo anche se c'è da dire che sia la satira la comicità insomma gli attacchi maggiori in teoria la satira nasce per criticare chi ha il potere quindi chi governa non chi ha l'opposizione invece in Italia siamo un paese un po' particolare dove si fa satira sull'opposizione anche quando sulla parte che è l'opposizione anche quando è il governo quindi si fa satira sempre quasi quasi a senso unico vabbè anche questa è un'altra polemichetta sterile però vi volevo dire che mi sono arrivati anche dei suggerimenti per chi è costretto a rimanere a casa magari più per le zone rosse però anche per noi quando uno non sa cosa fare a casa sua può passare il tempo non solo giocando la playstation o facendo altre altre cose futili ma anche arricchendo la propria la propria cultura e qui ho un contributo di un di un filosofo che mi ha mandato un messaggio vocale si chiama Paolo Ponneso e mi ha mandato un messaggio vocale con il suo con il suo suggerimento io ho voluto ho voluto dargli la possibilità di dire a tutti voi di dare a tutti voi un suggerimento di un suggerimento culturale grazie per questa opportunità vorrei dire che a chi si lamenta di dover stare a casa per Natale suggerisco la lettura di un buon libro ad esempio quello appena uscito il romanzo di Pietro Sudditi edizioni servi della gleba che parla di un uomo confuso macerato nella sua inadeguatezza ai tempi che corrono azzoppato dalla paura di non riuscire ad essere all'altezza combattuto tra un 37 374 e un 376 di scrimine per accedere al bar tabacchi perso nella sua coscienza di cittadino impantanato in un mondo che lo avvinghia per le caviglie della sua esistenza tenendolo vincolato al suo piccolo mondo domestico fatto di ossequiosa condiscendenza il libro si intitola lo trovate in tutte le mie migliori librerie si intitola Zitto e subisci ringraziamo il professor Paolo Ponneso che ci ha proposto questo questo libro questo romanzo da leggere durante durante il coprifuoco durante questi 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 giorni particolari che ci separano dal che ci separano dal Natale e dal nuovo anno per rimanere in allegria è stato è interessante oggi già sentire parlare in maniera forte della terza ondata e anche associarla a termini come strage insomma ce ne pentiremo e robe di questo tipo insomma la dice lunga sul criterio comunicativo che c'è al momento in Italia anche quello del governo il governo si è lanciato in tantissime task force l'unica task force utile che sarebbe servita cioè quella legata alla comunicazione la cura della comunicazione è stata totalmente ignorata e affidata secondo me in modo abbastanza superficiale a pochi e incompetenti la comunicazione non è un contorno la comunicazione è la stessa sostanza e serve anche quella a combattere a combattere la pandemia invece un pochino sottovalutata ci avviamo alla conclusione prima della conclusione però ho un altro blocco di messaggi vocali che sono arrivati e ascoltateli faremo un piccolo commentino alla fine e poi i saluti vediamo se questa volta riesco a farli partire credo di sì sentiamo un saluto a tutti gli ascoltatori sono donaldo volevo giusto dire che trovo un po' di disagio per come è stata affrontata la questione della messa di natale di mezzanotte trovo un po' di disagio perché se è pur vero che l'orario e il giorno stesso del 25 dicembre in realtà sono delle convenzioni ma neanche sbagliato dire convenzioni fanno parte della liturgia della tradizione cattolica quindi hanno anche un significato da quel punto di vista è una forma che diventa sostanza lo dico perché io dovrò anticipare questa celebrazione alle ore 20 per fare in modo che tutti i fedeli della mia parrocchia di San Ciopanza possano tornare nelle loro dimore entro l'ora del coprifuoco le 22 però ripeto non è un vezzo capito boccia ciao a tutti sono Tonio sono conosciuto nell'ambiente come Tonio Fitness e devo dire che oh mi hanno chiuso di nuovo la palestra cioè mi hanno chiuso di nuovo la palestra e come faccio mi sto organizzando a casa con delle damigiane piene di acqua non di vino perché io sono stemio per fare i pesi e poi mi sto tutto organizzando guardando i video su youtube però cioè non è la stessa cosa cioè io non è che mi si stanno scioppando tutti i muscoli non va bene riaprite le palestre che non è non è non c'è né contagio nelle palestre che nella mia palestra ci manca solo che ti facciano che ti facciano le lastre prima di entrare quindi per favore riaprite le palestre e dai riaprite le palestre allora lì sì sì lei mi consegna un documento di identità poi il codice fiscale un indirizzo un indirizzo email di riferimento il numero di telefono e noi le facciamo subito con lo speed speed di primo livello secondo livello di posto livello grazie a questo speed lei si potrà poi iscrivere all'applicazione io pago pago poste di lunedì e comunque grazie a questo potrà avere il bonus vacanza il bonus mobilità il bonus manopattino il bonus edilizio al 110% potrà anche accedere a cashback sa cosa significa cashback potrà accedere a cashback sì adesso un attimo il terminale non risponde non solo un esperto di scienze connettive né uno sociologo però alcune cose mi hanno colpito come questa diciamo autoaffermazione autoacclamazione di sedicenti virologi di pseudovirologi di paravirologi e il fatto che i giornalisti li abbiano etichettati come tali ecco da noi comunicano tutti abbiamo l'esperto ad ogni trasmissione quando non abbiamo i talk show che è la cosa più antiscientifica che ci sia all'estero esiste una preparazione per fare la comunicazione scientifica io vorrei citare due che conosco di altissima professionalità uno è Piero Angela e l'altro è Luciano Onder quelli che sanno fare una descrizione esatta che raccontano ma in America in Inghilterra ci sono i giornalisti preparatissimi e guardi che in Germania a parlare è quasi solo uno è Christian Drosten quello che ha isolato per la prima volta il virus della SARS quando era ancora studente di dottorato a Francoforte isolando quel paziente che veniva da Hong Kong e transitava per la Germania quindi parla lui perché era esperto nel Regno Unito ci sono Whitty e Wallens che sono il chief medical officer e il consulente principale del governo in America parla Tony Fauci qua da noi parlano tutti ecco questo ultimo l'ultimo che parlava è il virologo Palù che per un certo periodo è diventato il beniamino degli antivirologi no dei virologi con altre con altre posizioni in realtà però Palù dice una cosa di buon senso dice non si capisce perché in Italia chiunque si sente titolato a poter parlare di virus mentre in tutti gli altri paesi e ripetiamo non paesi a regime editoriale paesi della democrazia occidentale chi parla ufficialmente ed è titolato a parlare è solo uno negli Stati Uniti e Fauci negli altri paesi è solo una persona o un istituto che parla da noi ci sono le conferenze stampa di chi è titolato a parlare dal governo e poi tv una marea di altri personaggi più o meno in camice bianco che la sparano grossa e non si limitano solo a parlare di medicina o di pandemia ma anche di stili di vita che dovrebbero adottare gli italiani ecco questa è una cosa forse tipicamente tipicamente nostra bene siamo arrivati alla conclusione alcune cose la prima come avete visto è stata creata una pagina facebook ufficiale di voci dal coprifuoco vi consiglio di seguire le dirette se potete da lì poi io la rilancerò anche sul mio profilo però prevalentemente preferibilmente sarebbe meglio seguirle da lì voci dal coprifuoco la prossima puntata non sarà domani mi prendo almeno dico almeno e poi vi spiego perché almeno almeno un giorno di pausa anche per sistemare alcune cose tecniche per questa era una puntata pilota una puntata esperimento voi siete stati delle cavie e poi vi dico vi dico perché almeno un giorno perché questa trasmissione io vorrei fosse fatta soprattutto dei vostri contributi siete un po' timidi adesso avete visto come funziona la trasmissione diciamo ho dovuto metterci anche un po' del mio sarebbe bene che ci fossero dei contributi anche contributi solo testuali sarebbe meglio se fossero contributi vocali perché così li mando in onda e ci sentiamo possono esserci anche richieste di aiuto persone che hanno bisogno di informazioni su alcune cose persone che sono chiuse in casa e hanno necessità di comunicare possono saperla io la risposta ma magari può comparire tra i commenti quindi vi chiedo di collaborare il numero è scritto ovunque ovunque io pubblicizzi voci dal coprifuoco c'è il numero di telefono è un numero di telefono installato su un telefono dove non c'è rubrica quindi io non so a chi corrispondono i numeri potete inviare anche messaggi anonimi ma anonimi nel senso che sono firmati con nomi di fantasia ringrazio coloro che hanno mandato messaggi ringrazio perché anche durante la diretta ci sono stati altri contributi ad esempio Damiano sui virologi ha detto i virologi hanno fatto l'errore di esporsi in maniera esagerata sui media finendo probabilmente per screditare lo stesso messaggio che volevano veicolare e questo è un problema perché la mania di protagonismo è alta grazie a tutti coloro che hanno seguito grazie a tutti coloro che hanno commentato vi chiedo anche di spargere la voce che c'è questa questa commissione chissà magari per qualcuno potrebbe essere interessante mantengo la promessa di non andare oltre le 23 per questa prima puntata e vi do appuntamento alla prossima naturalmente la prossima sarà segnalata attraverso tutti i sistemi che conoscete cercherò anche di mettere questa prima puntata registrata su forse su youtube se ci riesco se riesco a tirar fuori una registrazione decente bene buonanotte buonanotte a tutti a tutti